Si allunga purtroppo la triste scia di persone morte a causa di incidenti stradali avvenuti sull'autostrada A20 Messina Palermo. L'ultima in ordine di tempo è una donna di Sant'Agata Militello, Angela Frusteri, 51 anni, deceduta sabato notte in un incidente avvenuto in territorio di Gioio Samarea sul viadotto Calitù, tra le gallerie Petraro e Calavà. Angela viaggiava sul sedile posteriore di una Mercedes classe C insieme ad altre persone. Violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo alla vittima. Nell'incidente un'altra donna è rimasta ferita gravemente, si tratta di una trentenne, anche lei di Sant'Agata Militello, arrivata all'ospedale Barone Romeo di Patti, politraumatizzata e con diverse fratture su tutto il corpo. La trentenne è rimasta ferita, nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico durato diverse ore e l'indomani mattina è stata trasferita al trauma center del Villa Sofia Palermo, dove si trova in coma farmacologico. Le comunità di Sant'Agata Militello e di Militello Rosmarino, centro di cui Angela era originaria, si sono svegliate ancora una volta in lutto e si sono strette ai familiari, il compagno con cui Angela conviveva e i quattro figli. E mentre si spera in un miglioramento delle condizioni della giovane donna, sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che secondo una prima ipotesi sarebbe stato inizialmente autonomo, mentre successivamente sarebbe avvenuto lo scontro con una Citroen C4, a bordo della quale viaggiavano tre giovani messinesi. Tutte e cinque le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate dalle ambulanze del 118 all'ospedale di Patti, dove ancora si trova nella camera mortuaria la salma di Angela Frusteri, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia al fine di accertare le reali cause della morte.